Fino al primo novembre il Museo del Paesaggio di Verbania, nei fascinosi spazi espositivi di Villa Giulia, affacciati sul Lago Maggiore a Verbania Pallanza, presenta Landscapes, dialoghi intorno alla terra. Una mostra tematica a cura di Guido Curto, che propone uno stringente confronto iconografico tra 24 dipinti ottocenteschi della collezione del Museo del Paesaggio di Verbania e della collezione Poscio di Domodossola, con altre tante opere realizzate da 15 affermati artisti italiani, contemporanei, che utilizzano svariate tecniche espressive, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alle installazioni. Dal Museo del Paesaggio di Verbania, temporaneamente chiuso per lavori di restauro e messa a norma, provengono belle vedute realiste e post-impressioniste dipinte da Guido Boggiani, Guido Cinotti, Eugenio Gignu, Carlo Fontana, Sofì della Valle, Mario Tozzi e Arturo Martini. Mentre dalla collezione Poscio di Domodossola ci sono i dipinti di Carlo Fornara, Giovanni Battista Ciolina e Luigi Bolongaro. In occasione della mostra sarà eccezionalmente esposto nella sala conferenze di Villa Giulia l'immenso dipinto ad olio di Arnaldo Ferraguti, alla Vanga. La mostra ha l'obiettivo di far conoscere e apprezzare dal pubblico quegli artisti che si ispirano alla natura e al paesaggio, alla bellezza dei luoghi e in molti casi specificatamente del Lago Maggiore.